ecco la storia delle piante aveva dei arbusti al milieu e dove c'è il vento? ma qui a cote non c'è il vento non c'è il vento tranquillamente non saperebbe nemmeno che c'è il vento non mi sembra neanche vero non ci sia venuto aspetta la fine delle piante poi vedi andiamo al lago andiamo a vedere se può pescare si vuole un po' pesce al lago le lunghe file d'arbre le lunghe file d'alberi per proteggere dal vento e penso che approfittino bene dall'acqua del lago perché se non è secca tutto e io penso che vanno bene approfittare l'eau du lac perché se no si sa va tu sei secco tiens le tante change boh non verrà le rose la ville è magnifica è un petite ville è davvero carino questo posto è piccolino non è farcito di turisti c'è turismo argentino e per cui sto in ben sto dentro bene se l'avessi saputo prima sarei venuto prima se non lo dicevi prima sapi stesse che 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 Grazie a tutti Grazie a tutti